Fusione Quarne, tutto rimandato eventualmente alla prossima estate quando sarà insediata una nuova amministrazione comunale a Quarnasopra dove si voterà il prossimo 26 maggio. Intanto sull'argomento è tornata ad interrogarsi la comunità di Quarnasotto durante un'assemblea pubblica organizzata dalla giunta guidata da Paolo Gromme. I presenti all'auditorium del museo hanno nuovamente espresso la volontà di perseguire la strada della fusione dei due comuni e non sono mancate alcune frecciate all'attuale amministrazione di Quarnasopra. È da più di un anno che si ipotizza l'unione dei due paesi cusiani ma ogni operazione si è arenata alcuni mesi fa. Per fare i matrimoni bisogna essere in due a ribadito Gromme, non abbiamo trovato una controparte convinta nel seguirci. È mancato non tanto il sostegno del mio collega Carlo Quaretta quanto quello di chi lo circonda, ma sul futuro Gromme resta fiducioso. Vedremo come andranno le elezioni di maggio, ha affermato, mi auguro che i nuovi amministratori siano allineati con l'idea sposata dall'intero nostro consiglio comunale. La fusione resta necessaria per proteggere le nostre tradizioni, altrimenti Quarna diventerà il municipio 1 di Omegna. Il suo vice, Davide Casalino, ha aggiunto, avremmo anche potuto spingerci oltre negli scorsi mesi ma avremmo seriamente rischiato di provocare più danni che vantaggi, andando a rompere una tacita e cordiale collaborazione che comunque esiste con Quarnasopra.